Occorre fare chiarezza sulla vicenda SAC perché troppe cose, alcune sbagliate, sono state dette in questi giorni. A dirlo è il presidente della Camera di Commercio di Siracusa, Ivan Lobello, che ha convocato la stampa per far luce su una vicenda che in questi giorni sta assumendo i contorni di un vero e proprio romanzo. Il primo punto sul quale interviene Lobello è sui nomi avanzati, tra cui quello di Santo Castiglione, un nome che Confindustria non ha mai appoggiato poiché Castiglione, secondo Ivan Lobello, non ha il curriculum manageriale adatto per gestire una società così complessa. Ma resta comunque un rapporto con la politica, ma anche qui bisogna fare delle distinzioni, perché Lobello specifica che con il presidente Lombardo non intercorrono rapporti da diversi mesi. Con il presidente Lombardo hanno discusso e continuano a discutere i miei colleghi di Catania. Vi ho spiegato anche come, hanno fatto riunioni con lui, io con lui non mi sento da molto tempo, non ho intenzione di sentirmi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché alla luce del prossimo commissariamento il compito degli altri soci pubblici sarà quello di tutelare la SAC dalle tentazioni di replicare una stagione terribile, quale fu quella di qualche anno fa, con assunzioni clientelari ed altre cose che avevano portato la SAC in una situazione di squilibrio finanziario ed economico molto forte. E venendo alla vicenda SAC, la Camera di Commercio aveva depositato prima di ieri, giorno che era stato scelto per l'elezione del CDA SAC, poi rinviato, una lista composta da nomi dell'imprenditoria, a cui dopo si è raggiunto qualche nome della politica, per volere del commissario che per qualche giorno ha guidato la Camera di Commercio di Catania. Questo fa capire come avere un non posto dalla SAC in questo momento fa gola a tutti. Qui subentra la paura di Lobello, ossia l'ingerenza politica, che non è mai stata una buona soluzione per la SAC, considerando che in passato, proprio quando la SAC era gestita dalla politica, non otteneva buoni risultati. Lobello pensa all'ex presidente SAC Service, l'onorevole Reina, e ricorda il dilagare del clientelismo durante quell'epoca. Lobello cita questo ricordo perché il nome di Reina si è rifatto in questi giorni. Reina è una persona simpatica, affabile, ha avuto anche esperienze governative, però ricorda una stagione della SAC non proprio bella, e quindi spero che queste voci siano, diciamo così, voci assolutamente infondate e non prevedono, diciamo così, un ritorno a personaggi che, ripeto, non hanno fatto bene all'azienda, non facendo bene all'azienda, non hanno fatto bene al territorio, a questa città e alle altre realtà che utilizzano i servizi dell'aeroporto. Lobello ci tiene che la SAC prosegue il cambio di rotta intrapreso. 91 assunzioni a tempo indeterminato negli anni precedenti, mentre tra il 2008 e il 2011 una sola assunzione. Ciò fa capire che ogni forma di clientelismo è stata debellata. Inoltre, nel 2006, l'aeroporto di Catania era l'ultimo posto, mentre oggi, in termini di produttività e di utili, è tra i migliori, tant'è che l'ENAC adesso si fida dello scalo etneo. A questo punto, Lobello si chiede se tornasse la politica all'aeroporto, che danno si creerebbe? Per fortuna, dice Lobello, ieri non si è potuto fare nulla, poiché col decreto sulla spending review sulle società pubbliche, il CDA deve avere al massimo tre consiglieri contro i cinque attuali, e quindi la SAC deve rivedere il suo regolamento. La seduta è stata aggiornata al 23 luglio, Nel Consiglio, a tre, due devono essere riferimento degli enti partecipanti, mentre il terzo diventa presidente e amministratore delegato. Ecco perché serve qualcuno con un alto profilo, e che sia esterno alla politica, dice Lobello. Dunque, se Camere di Commercio con Agen e Regione con Lombardo hanno contrasti tra loro, ciò non significa che a pagarne le conseguenze deve essere la SAC. Venendo all'attuale presidente uscente, Gaetano Mancini, egli è stato espressione nella Camera di Commercio, Confindustria tuttavia elogia l'operato di Mancini, che ha aumentato gli utili senza sottosterra ad accordi politici e clientelari. Provene sia che dopo la decisione di affidare i servizi a una global service, è cominciata una rivolta nei confronti allo stesso Mancini, secondo Lobello ingiustificata. Per il futuro, quindi, Lobello suggerisce che si stipuli i protocolli di legalità con la prefettura, per evitare che aziende in odore di mafia possano ottenere lavori all'aeroporto. Questa è una risposta anche ad Agene, che aveva invitato prima nei giorni scorsi i Confindustria a mettere online la lista di carichi pendenti dei soci della stessa Confindustria, dopo che questa a sua volta accusava la Camera di Commercio su alcuni associati, soprattutto sulla ditta Ercolano. Io chiederò alle aziende nostre associate di sottoscrivere con la prefettura di Catania un protocollo di legalità, un protocollo di legalità, e quindi quando sceglieranno i servizi di autotrasporto, la prefettura dovrà valutare se queste aziende hanno il certificato antimafia in regola o non in regola. Questo darà un po' di trasparenza al settore e fugarà ogni dubbio. Anche sotto questo profilo faremo contento il presidente Agene, che ha invocato la legalità e gli diamo una mano e lo aiutiamo in questo senso. Il presidente Agene è pronto a replicare, ha già fissato per giovedì una conferenza stampa.